ULICON ZOMBIE APOCALYPSE BELLA RAGAZI E BENTORNATI QUI SUL CANALE Oggi siamo con Voras E dire ciao sarebbe troppo normale quindi dico ciambella Ciao Bene, oggi ragazzi siamo su GeoGuessr Perché mi è venuto a voglio di giocare questo gioco L'avevamo già registrato una volta ma non lo avete mai visto Perché non lo so Non lo so Oddio è vero abbiamo già registrato una volta ma mi sono dimenticato anch'io perché sono pirla Perfetto, comunque per chi non sapesse cos'è questo gioco è molto semplice È il sistema di Google Map Che ti praticamente indirizza in una parte qualsiasi di mondo E tu devi indovinare attraverso gli indizi che trovi nella mappa dove sei Adesso facciamo un esempio In questo episodio faremo l'European Union Ovvero soltanto le mappe dell'Unione Europea Io direi subito di iniziare ed eccoci qua Ok, allora Vorace vede il mio schermo quindi lui potrà aiutarmi Vedrete anche un episodio sul suo canale ovviamente diverso da questo Allora, siamo a Londra Ok Siamo a Londra Perché c'è cazzo Che cazzo però dai C'è scritto comunque Però adesso dobbiamo essere più precisi possibili Allora ecco laggiù c'è il Tower Bridge Laggiù Vedi? Sì lo vedo Allora intanto Ovviamente Allora andiamo intanto a Londra Sul fiume Tamigi Ok London Bridge Quindi noi siamo qua Sul Tower Bridge a regola Allora siamo un po' più Allora dove siamo spostati Vedi se c'è un altro ponte tipo C'è un altro ponte qua accanto Vecilissimo Allora noi siamo nella parte dove c'è il ponte più vicino Eccolo qua Qua giù mi sa Vedi un po' Questo? O no forse Oh cazzo Oddio Aspetta dov'è Nord? Allora fa vedere dov'è il sole Allora Nord Vai a destra Lago Rosso deve andare in alto Ok quindi Nord è di qua Quindi io a sinistra dovrei avere Un ponte E a destra il Tower Bridge Ok sei su quello grigio allora Ma eppure non mi torna Secondo me siamo su questo Perché quello grigio Sta a indicare Non è un ponte È una galleria È una galleria E allora fai il bianco Dai vediamo un po' Sì sì È il bianco È questo? O questo? È quello a destra Questo? Sì Ci proviamo ragazzi Abbiamo sbagliato Era quell'altro E lo sapevo No Vabbè comunque 4999 punti Eh cazzo È minchia Un punto solo di 400 metri abbiamo sbagliato Ok Prossima mappa Vediamo un po' Questa era proprio facile dai Dove cazzo si Aspetta Allora Cara Allora secondo me siamo in Spagna Ah no 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 C'è scritto in inglese Irish È Irlanda 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 Dobbiamo trovare delle indicazioni stradali Che ci indicano In che paese siamo Anche se laggiù vedo una metropoli Quindi potrebbe essere O Dublino Può darsi Le strade sono abbastanza larghe Per essere una cittadina così Eh quindi Allora vediamo un po' Ragazzi tenete conto Che io vedo un po' la gare Quindi Sì ovviamente ragazzi Lui è connesso tramite Team Viver Quindi un po' vedrà la gare Lui infatti aspetteremo un secondo Comunque Eh Non ne ho idea Allora spostati un po' Vai verso la città Ok andiamo verso la città Ok qua giù c'è Troppo però Che cazzo Eh vabbè Allora Avevo visto dei cartelli Allora se non sbaglio I cartelli Eccolo qua Non c'è scritto niente Bene Ok aspetta Siamo sulla A64 Ok Cerca un po' Irlanda Ma intanto Aspetta Irlanda del nord O del O Irlanda Irlanda del nord Non sta In un euro O si No Si Aspetta Questa cosa la posso vedere Su internet No No Meglio di no Meglio Di no Ah vediamo un secondo Allora abbiamo Siamo sulla A64 Però io in Irlanda Di strade Con la A Non ne vedo E questa Ah lo so Che non la gioca labbra E' chiaramente quella Guarda stai tranquillo Allora aspettiamo Andiamo un secondo In Irlanda del nord E infatti qua c'è la A Qua siamo in Irlanda del nord Siamo A64 A64 Non è Belfast Ok Eh A64 Non la vedo però Comunque tutte e due Stanno in un'europea Quindi o l'uno o l'altra Che cazzo Troppo Ok allora Ok qua ci sono dei segnali Non li abbiamo visti Troppo però Porca troia Ora Qui Qui Dobbiamo assolutamente Indovinarlo C'è un segnale grande Come una Allora Bradford Eh Dove cazzo è Bradford Scusa Allora Bradford Aspetta M M se non sbaglio In Irlanda Eccola M1 Ok Adesso siamo a Dublino Per forza Eh no C'è l'M M1 Eccola qua Eccola qua Bradford Vediamo se riesco a leggere qualcosa Pure io Ma posso mettere a schermo intero Tipo Eh no Perché se no Mi si fotte OBS È la fine Ma se io faccio così Mi muovo così Non succede niente No vabbè che lo sto muovendo io Fermo 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 Sì 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 Madonna che ritardo Mentale Allora aspetta Fammi pensare Allora M1 Oddio Aspetta Allora Siamo in Irlanda Del sud Non è quella del nord No No Vabbè Irlanda del sud sarebbe solo Irlanda Sì vabbè Vabbè Dettagli inutili Il problema è Sarà Dublino O no Eh Perché è una città Abbastanza grossa Da quel che vedo Però Ok qua c'è altri segnali San James Hospital È sempre quello Bradford L'ospedale L'ospedale Aspetta San James Hospital Eh Hospital Dovresti cercare O Bradford O Skipton Eh Eh Sto vedendo un po' pure io Ma Di città grandi in Irlanda C'è Dublino E E E Allora L'M1 è a Dublino Quindi siamo per forza a Dublino Qua su c'è scritto M1 Sicuramente Non è detto Non è detto Andiamo lungo all'M1 Eh Non è facile Direi di andare giù Continuiamo da questa strada grande E andiamo giù Vai giù Vai giù Giù Ci si può andare Sì ok Perché Così vediamo la città Nel preciso qual è Ok qua c'è scritto Premier League E questa cosa non torna Perché Premier League è in Inghilterra Vabbè può darsi che la seguono Allora siamo in Irlanda del Nord Leeds Aspetta Leeds No aspetta Allora Leeds è in Inghilterra Il problema è Sì Sud Però aspetta Andiamo un secondo A Leeds Aspetta che tanto mi ricordo Dov'è all'incirca Ma vuoi vedere che non Siamo in Irlanda M1 Eccola qua Anche in Inghilterra c'è Non siamo in Irlanda Allora Era solo un cartello di merda Mi sa Che siamo Siamo ancora a Londra O a Leeds Non lo so Qui c'è Leister Adesso ci giriamo l'angolo Troviamo il punto Eccola qua Eccola qua Ok Oh Avevo visto Notwell Come si chiamava il paese? Allora Bradford Una cosa del genere Ok Allora Io non vedo nessun Bradford Skipton Skipton Anche potresti cercare Andiamo un secondo avanti Vediamo se qua c'è qualcosa Motorways Nulla di nulla Eccoci L'ho trovata York Siamo all'outlet di York Quindi Sicuramente Guarda Oh Aspetta Vero Non è detto che sia York Comunque siamo in Inghilterra Abbiamo capito che siamo in Inghilterra E stiamo andando contro No non è vero Stiamo andando contro mano Ok Mi sa di sim Sì Stiamo Non sto capendo niente Alla fine Allora Ma qua è invertito il sangue di marcia Quindi Allora qua c'è un altro segnale San James Hospital Skipton Cerca Skipton sulla mappa Devo trovare l'A660 Devo trovare L'autostrada A660 Che è qua vicino Ok Forse l'ho vista Vai un po' in alto Eccola 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 Ah ok Skipton No Oh Fermo Allora Vai un po' in alto Ok Zumba su Water Ah è Waterwood Una cosa del genere Comunque siamo a Qui siamo a Leeds Siamo Eh siamo in zona Però City Center Ascolta Io direi di tirarla Ok vai Siamo a Leeds E se No E secondo me Ti posso dire Che siamo Qui Lo proviamo Sì Eh 2 km e 7 2 km e 7 2 km e 7 2 che in Irlanda Vabbè Non è andata male Non andiamo male Ok terzo round Vediamo un po' E porco il cazzo Dove siamo qua? Allora qui siamo in un Europa continentale Tipo Germania Olanda O Franca Ok Allora lo stile Vediamo un po' I segnali stradali Se riesco a Ok potrebbe essere Germania Roux Camille Flamma No Eh Francia Eh mi sa che è Francia Questa Il problema è che siamo Capitati in un paese Di merda Lontano da tutto Gabinette Medica Sì È Francia La vita Gabinetto Medicale Aspetta no Qua ci sono dei segnali Aspetta Sì França Quindi Françoise No aspetta Gruppe Scolet Ok sì Sì è Francia È Francia Il problema è che bisogna capire Eh Quale paese della Francia La Francia non è mica così piccola Bisognerebbe Vabbè la Francia è un paesino C'è arriva in due Tu guarda È grande all'incirca come Caserta No? Più o meno Sì 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 sicuramente Ecco Le Muschets Sì Che cazzo Dove siamo finiti? È la fine Ma che sia Ma che siamo In Russia qua Ma cos'è queste abitazioni? No Ma tranquillo Francia Allora Aspetta un secondo Scendiamo Devo trovare un cartello Che mi indica In che paese Sì Ok Qua sei in una via principale Buono Il problema è Io vado a sinistra Va bene di qua? Sì No Vai a destra A destra Vai a destra Ah Non mi Ok Qua c'è qualcosa Eh Eh E se fossimo in Belgio Guarda Io nel cartello Ho letto sia francese Che una lingua strana Tipo tedesco Ho capito Ma c'è scritto François Quindi Cioè Sto andando Secondo me È Belgio Secondo me Non è Francia Dobbiamo Aspetta però Il Belgio Aspetta un secondo Ok qua c'è Aspetta qua c'è un segnale Andiamo a vedere Eh ma che cazzo Ma Eh no Ci sono cambiati segnali È diventato un cantiere È diventato Ok Brest Brest Mi sa che è Belgio No Brest è il paese Ma vedi che ci sono Eh sì Ma vedi che ci sono due lingue È uno di quei paesi là Non è Francia Forse Eh Mi sa di sì È Belgio allora O forse è Francia Però al confine Ah se riuscisse a trovare Il paese di Brest Ah Brest l'ho già sentito Ma Brest è una città importante Era quel che ricordo io Però mi devo ricordare Dov'è Brest Vediamo un po' L'Okeren Ok in Belgio Non lo vedo Brest C'è Liegi No Ok vediamo Francia un secondo No Mezza è in Germania Ok So dove è Brest Ma non te lo dico Ok Non puoi vedere in internet Su internet però Allora Allora Ruella Havre Ren Brest Eccolo Francia Eccolo qua È in Francia È nella Bretagna Sì Nella penisola Ok siamo a Brest Ora Penisola iberica Io devo No nella penisola iberica Va bene Ah io devo trovare Un Lambezeg Lì Come mi inghese chiama Lambezeg Eccoci qua Ok Allora io Per non saperne Leggere Ne scrivere Ti posso dire che Allora Le autostrade qua Non ce ne sono Però Secondo me Non sai ne leggere Ne scrivere Complimenti Più o meno Secondo me siamo qua Tenta il tentativo Porca puttana Un chilometro Dunque c'eravamo C'eravamo 4997 Buono Vai Ok Ultima Non mi ricordo No è la quarta Quarta È la quarta 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 Ok Ok Qui è possibile che siamo in Italia O Spagna Secondo me più Spagna Sì Le strade larghe Non sono No No Ti prego Cosa Fammi vedere questo cartello Non mi ci fa andare No Non so Comunque sì siamo in Dio Aspetta Allora In Spagna Ok qua c'è No No Questa Non è la Spagna Questo qua No è vero Non ci leggo Qui siamo È strano come paese Questo Non è che È un misto tra Inghilterra Spagna Germania È un po' Eh Non Ma che cazzo Ok aspetta Qua c'è scritto qualcosa Al parcheggio Lingua almeno No eh No Proprio no Neanche la lingua Bene Ah i segnali stradali qua Oh Except Germania Non Sai che forse Non è proprio Germania Olanda Secondo me è più Olanda Barra Repubblica cieca In Repubblica cieca Non parlano tedesco Però non è tedesco questo Sì è tedesco Unzerzoken È tedesco Secondo me Bisognerebbe trovare Un cartello stradale Per dirci In che città siamo Ma a quanto pare Come ti ho detto Qua non li usano Cioè Cartello Ah tu arrivi Ad un incrocio E non c'è un cartello Porco il cazzo Dove devo andare Vabbè gente morta Sul prato Qua vabbè Mi si è ascolto lo schermo Floria Vabbè Floria A vedere le targhe Eh Vabbè Grazie Non te le fanno vedere Eh infatti Magari una non è roscurata Boh Vediamo un po' Coglione Non Non posso andare avanti Cos'è sta magia Perché È un loop Non puoi uscire dalla città Forse No no È un loop È un loop Non posso andare avanti Sì scusa Uno come capito Eccolo Belgio 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 No non è Che cazzo dico È Brux È Bruxelles Forse Oddio Potrebbe essere Ho detto Amsterdam Ma che cazzo Ha nella testa Che testa di cazzo Comunque siamo in Belgio Infatti lo stile delle case È quello Più o meno Perché noi ci siamo stati In Belgio Ovviamente No ma cazzo Lo vedi come sono le case In Belgio Non sono come in Italia Comunque Può essere Olanda Anche Che ne sai Comunque siamo in Belgio C'è la bandiera Ok È anche una città Abbastanza importante Perché c'è il tram Quindi Ti immagini Quella era un'ambasciata Non siamo in Belgio Che merda È come prima Siamo in Irlanda E poi in Leeds Aspetta però A me il lago Mi potrebbe servire Perché Siamo tipo Bruxelles C'è pieno di laghi A Bruxelles Eh Grazie A meno che non siamo Aspetta Forse Ma un cartello Con scritto Una città Media World Aiutami Fermo Ok Qua c'è una Sì è Bruxelles È la stessa È la stessa È la stessa Sì è girata Sotto sopra Però Sì Però è la stessa Tu vedi cosa c'è in basso a destra Sì Non nella cartina Dove Qua Nel coso che si muove Che è in basso a destra Ah qui Sì Allora tu vedi quella zona verde Che è in basso a destra Sì Portala in alto a sinistra Ok Sì Giù sta E io non la vedo Eh no ma non posso portarla in alto a sinistra Non posso girarla Ho capito Comunque siamo a Bruxelles Siamo No Siamo in basso a destra di Bruxelles Secondo me Guarda Secondo me invece è così Tipo se io la avvicino Così Guarda Eh Questo qua Aspetta Io non vedo la freccia Siamo qua Siamo qua C'è il lago Oh È questo È fatta Mmm No forse no Prova Prova lì Vai Porco il cazzo Due chilometri Abbiamo sbagliato l'ago di Di un culo Abbiamo sbagliato Oh guarda Non mi capirà le battute Vabbè comunque Prossima E ulti E Olanda Perché ci sono le targhe gialle Vabbè anche in Germania ci sono eh Potrebbe essere anche in Germania Vero Però qua Allora Incute terrore questo viale però E non c'è un cazzo Ok questo è un tipico paese Dove c'è una strada dritta Per l'eterno Dove non hanno fantasia Stud Mon Sa No È Inghilterra È tutto in inglese E mi sa che è Inghilterra Guarda È vero È vero Anche le case Ci potrebbe stare Però Inghilterra del sud Tipo Più o meno Sì secondo me verso Londra Però No Non mi sembra Londra Troppo povera Io devo tro Madonna Tutto uguale qua Finchia ma È la fine È un quadrato Ma sono tutti Ma Aspetta ma se fosse tipo la Scozia Nord Eh Sì Potrebbe essere anche la Scozia Potrebbe essere Vediamo un po' Se io trovassi un cartello come prima Da giù cartello l'ho visto Venga qua Hospital Cartù E che cazzo è? Un chilometro e un quarto Va bene E Eh Che cazzo mi sta a significare? Non lo so È tutto uguale Vabbè Metti Roma E vediamo un po' Ah io direi di far così Guarda Siccome io ne sono sicuro Secondo me Ti dico che è la Scozia Eh E ti dico Che è Glasgow E ti dico Che siamo qua Se hai azzeccato Ti sparo Ho sbagliato Di 300 chilometri Eravamo a Grimsby In Inghilterra Ma come faccio A saperlo Vabbè Comunque abbiamo fatto 24.084 punti A parte questa L'avevamo indovinato Che cosa è successo A parte questa L'avevamo indovinato Tutte Quindi Ci sta Italo Grazie per la pubblicità Comunque ragazzi Grazie per aver seguito Questo video Noi ci vediamo Nel prossimo Che trovate anche Sul canale di Voras Dopo questo Più o meno Non lo so Quando uscirà Posso uscirà Prima quello di Voras Non ne abbiamo idea Vabbè Vedremo E cremo di battere Questo record Anche se sarà Molto difficile 24.084 Esatto Quindi Qua da Matte è tutto Anche da Voras è tutto Noi ci vediamo Al prossimo giorni Con un nuovo video E con un nuovo live streaming Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Se ancora non vi siete iscritti Passate dal canale di Voras Che trovate qua sotto In descrizione E niente Ciao Ciambella